Buonasera benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Sicuramente il bollettino aggiornato per quanto riguarda i nuovi contagi a Ferrara e in regione ma anche la protesta che sta andando in scena anche a Ferrara nei confronti contro il nuovo DPCM da parte delle categorie più colpite da questi nuovi provvedimenti, queste misure anti-covid. Quindi sentiremo le palestre, sentiremo bar e ristoranti, sentiremo anche il ministro Franceschini che spiega la chiusura decisa da questo nuovo DPCM per ridurre la mobilità. Ma riapriremo prima possibile, spiega Franceschini e poi naturalmente via via spiegheremo tutti gli aspetti di questa emergenza sanitaria che naturalmente diventa sempre più anche economica. Sentiremo anche la testimonianza di un ferrarese ricoverato in terapia, scusate, ricoverato alla Sant'Anna perché ha contratto il covid e ne è uscito, ma insomma sentiremo la sua testimonianza e poi naturalmente anche altre notizie. Apriamo allora, andiamo avanti parlando dei nuovi contagi perché nel giorno dell'approvazione del nuovo DPCM che introduce nuove pesanti restrizioni in tutta Italia, crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1192, appena 12 in più di ieri quando si era segnato il record di contagi in un giorno, ma rispetto a ieri, come di solito avviene nei fine settimana, è stato fatto un numero molto inferiore di tamponi. A Ferrara si registrano 58 nuovi casi di positivi con tre nuovi ricoveri a Sant'Anna, due persone di Ferrara e una fuori provincia. In terapia intensiva al momento sono ricoverate 5 persone, un numero invariato rispetto a ieri. dei nuovi casi positivi a Ferrara, lo ricordiamo sono 58, 26 sono con sintomi. A Ferrara c'è anche un caso positivo alla scuola di infanzia alla Mongolfiera di Cassane, il comune ha provveduto alla chiusura di questa sezione, all'interno della scuola è già stata effettuata la sanificazione, scatta ora il protocollo sanitario, quindi il test e il periodo di osservazione in quarantena per i componenti della sezione che comprende 25 bambini, tra insegnanti e due ausiliari, sezione che resterà chiusa signo agli esiti negativi dei tamponi che sono in corso di esecuzione, mentre le altre due sezioni della scuola invece proseguiranno l'attività regolarmente. Ritornando ai numeri dell'Emilia-Romagna, il bollettino diffuso dalla Regione, aggiornato alle 12 di oggi, fa segnare un altro record, quello dicevamo dei numeri dei casi attivi, ovvero delle persone che attualmente è certificato che abbiano il Covid. Sono infatti 14.828, anche se il 94% di loro si trovano in isolamento a casa o perché senza sintomi o perché presentano leggeri sintomi che non richiedono quindi del ricovero ospedaliero. È probabile che nei prossimi giorni questo numero continui ad aumentare, complicando ulteriormente le già ingolfate attività di tracciamento. I numeri dei ricoveri comunque sono molto lontani da quelli di marzo-aprile, sono 88 in terapia intensiva e 757 negli altri reparti Covid, ma purtroppo bisogna registrare 4 decessi. Allora, dicevamo, una protesta pacifica organizzata in Piazza Cattedrale a Ferrara contro il DPCM, poi naturalmente che si è spostata anche in Piazza Trento Trieste, una manifestazione delle categorie più penalizzate dai nuovi provvedimenti del governo a partire da bar e ristoranti. Partiamo da loro e sentiamo il perché. Sì, ieri sera mi sono ritrovato a conversare con amici e colleghi tramite i social e ci scambiavamo quattro battute e così dal caso abbiamo detto troviamoci domani sera in piazza e manifestiamo il nostro dissenso per quello che sta succedendo. Voi siete titolari di attività che si sono messe in regola in questi mesi, avete investito anche tanto per investire in sicurezza, adesso dovete richiudere, tutto questo ricade immagino sui vostri bilanci, come pensate di fare in questo mese di novembre? Sì, dopo il lockdown tutti siamo ripartiti con le difficoltà del caso perché abbiamo dovuto investire parecchi denari per mettersi in regola, giustamente, gli sforzi sono stati abbastanza grandi, gli aiuti invece di contro sono stati pochi ma pian pianino ce la stavamo facendo. Ora mi sento di dire che siamo qua perché non possiamo essere aditati come gli untori di questa situazione, non vogliamo essere il capo respiratorio di una pandemia che si sta evolvendo, ahimè è troppo in grande, però noi eravamo tutti in regola, chi più chi meno, ma tutti hanno fatto grandi sforzi e lo dimostra il fatto che di volta in volta quando ci veniva imposto praticamente di allargare le postazioni nelle sale, tutto quanto questo è stato fatto, per cui abbiamo dovuto comprare disinfettanti, gel, ozonizzare gli ambienti. Adesso come possiamo fare? Praticamente per noi il fatto che ci facciano chiudere dopo il pranzo è come una chiusura, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di tenere in piedi i locali facendo un po' di asporto, ammesso che ci sia richiesta da parte del pubblico, questo sarà da verificare, siamo molto preoccupati, voi tenete in considerazione che come noi, in Italia ci sono 350 mila imprese con 2 milioni di operatori del settore, la cosa è veramente grave. Se ieri Conte avesse già detto gli aiuti economici che il famoso ristoro che vi era stato in questo caso promesso, forse avreste accettato più di buon grado questa situazione? Allora, il ristoro, già la parola ristoro non mi piace più di tanto, comunque avendo saputo prima di cosa si trattasse molto probabilmente oggi, questa sera non saremo qua. Secondo me prima doveva essere divulgato il discorso degli aiuti e poi dopo il DPCM. Ecco, abbiamo sentito praticamente da chi è partita l'idea per fare questa manifestazione di protesta e insieme a bar e ristoranti anche le palestre, noi chiusi nonostante le sicurezze e le norme anti-Covid. Sentiamo. Siamo con Michele Felisati che è titolare di una delle palestre di Ferrara che da oggi ha dovuto chiudere, avevate appena stabilito dei nuovi protocolli per accedere a queste strutture però da oggi siete chiusi. Quanto pesa questo sulla vostra attività? Pesa molto anche perché ci avevano dato la speranza di tenere aperto e riuscire a continuare a dare il servizio, oltretutto noi anche persone con patologie croniche, quindi un servizio essenziale per la salute, invece ci hanno chiuso e non capiamo il motivo anche perché ci sono stati controlli, controlli dei NAS, andati tutti bene anche a livello nazionale ma pur avendo degli ottimi riscontri non hanno creduto in questo tipo di attività. Dal governo emerge che si vuole limitare la mobilità delle persone, però nel vostro caso ok, lo sport prevede un certo tipo di protocollo, secondo voi si poteva comunque rimanere aperti pur nel rispetto alle sicurezze? Allora, attualmente nessuno è riuscito a devincere situazioni in cui dentro a palestre o comunque facendo sport ci siano degli incrementi di contagi, in più la letteratura scientifica anche attualissima dice che fare attività motoria aumenta le barriere difensive e anche in caso di contagio riduce notevolmente quelle che sono le crisi acute, quindi a questo punto vorrei capire dove è il problema. E voi avete già contattato la regione per cercare di far qualcosa? Sì, quest'oggi abbiamo contattato il presidente della regione e il dottor Calvano e la dottoressa Zappaterra, la quale ci hanno risposto immediatamente, giovedì ci sarà una risposta in base al nostro quesito. Vedremo giovedì se i nostri politici capiranno questo tipo di problema. Abbiamo preso queste decisioni sofferte per limitare i movimenti delle persone e chiediamo la collaborazione delle personalità della cultura italiana per aumentare la coesione sociale. Queste alcune delle frasi del ministro per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che si è affidato ai social per rispondere alle critiche che stanno naturalmente fioccando in queste ultime ore, la cultura insieme alla ristorazione, l'intrattenimento e lo sport è tra i settori più colpiti dal DPCM, come abbiamo visto anche da queste immagini. Sentiamo però alcuni passaggi delle sue dichiarazioni. La chiusura delle attività, delle attività in cui si ritrovano molte persone, non è stata legata a una scelta gerarchica. Sarebbe assurdo scegliere così, a una scelta gerarchica di importanza, sono più importanti i teatri, sono più importanti le palestre, tutto il dibattito piuttosto stucchevole a cui ho assistito, ma è derivata dall'esigenza di ridurre la mobilità delle persone. La filosofia, la motivazione che ha portato a chiudere tutte le attività dopo le 18 è esattamente questa, ridurre la mobilità e prima si interviene, prima si può ridurre, cambiare l'andamento di quella curva. Allora io mi impegno a che questa chiusura sia la più breve possibile. Dipenderà ovviamente dall'andamento epidemiologico, ma questo è il mio impegno. Io mi assumo la responsabilità diretta di questa scelta, poi sarà il tempo a dire se è stata giusta, se è stata sbagliata, se è stata necessaria o no, ma adesso serve metterci tutti dalla stessa parte. Io aggiungo il mio impegno a tutelare i lavoratori dello spettacolo, soprattutto i meno conosciuti, i meno visibili, i lavoratori del cinema, aiutare le imprese. Dovremo fare di più prima di tutto a risarcire immediatamente chi ha subito le conseguenze della chiusura immediata di questo DPCM. Ho scritto una lettera alle televisioni questa mattina chiedendo alle televisioni, quella pubblica che ha il dovere, perché è un servizio pubblico, ma anche le altre, di dare più spazio alla cultura, di comprare spettacoli, trasmetterli, pagare i diritti per aiutare la cultura non in modo simbolico ma in modo materiale. Stiamo lavorando da qualche mese su questa piattaforma della cultura italiana che potrà offrire in streaming a chi non può andare in un teatro la possibilità di vedere uno spettacolo in modo da avere entrate e offrire la cultura italiana nel mondo senza pensare in nessun modo di sostituire il rapporto diretto con il pubblico. Si chiama spettacolo dal vivo per questo, quindi nessuno pensa di sostituire le sale ma di integrare. Se in un'emergenza sta come questo, il Paese si divide, i problemi e i rischi diventano molto più grandi. Io penso che la risposta sia fare ognuno di noi il proprio dovere, nel modo migliore possibile. Anch'io sto cercando di fare semplicemente questo. E se ognuno fa il proprio dovere ricostruiamo quel clima di coesione sociale di cui c'è un grande bisogno. Poi verrà il tempo delle divisioni, delle analisi su quello che è stato fatto giusto, quello che è stato fatto sbagliato, ma oggi di fronte ai contagi, di fronte ai malati, di fronte ai rischi per la vita della salute. Non è questo il tempo. Per questo chiedo a voi, che avete una grande influenza, voi personalità della cultura, voi mondo della cultura in generale, che avete una grande influenza sull'opinione pubblica e una grande capacità perché siete testimonial di valori, di una forza così grande come è in Italia la cultura. Vi chiedo davvero di dare un contributo per la coesione sociale. Ne abbiamo un grande bisogno. Noi ora vi raccontiamo la storia di Mario, un ferrarese di 68 anni ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Cona per più di una settimana perché ha contratto il Covid. Non è una semplice influenza, ci dice, troppi ancora ci ostinano a raccontarcela così. La storia che ha vissuto e quello che ha visto durante i giorni nel reparto Covid positivo al Sant'Anna è stata diciamo così trasformata in un messaggio che ha messo sui social, indirizzato agli amici, un messaggio che ha arrivato anche la redazione di Telestense e che con il suo permesso abbiamo deciso di raccontarvi. Queste sono le sue parole lette per noi dall'attore Marco Sgarbi. Sentiamo. Ciao amici, volevo solo testimoniarvi che il Covid esiste ed è terribilmente attivo nonostante esistano gruppi disconsiderati che ne negano l'esistenza. Dovrebbero fare un giretto nei reparti Covid di qualsiasi ospedale. Io ho appena ricoverato con l'ossigeno addosso, ho visto morire soffocato il compagno di stanza. Al suo posto il giorno dopo una vecchietta di 84 anni che il Covid le aveva procurato una broncopolmonite bilaterale purtroppo l'hanno dovuta riportare in una struttura per liberare il letto per un ragazzo di soli 48 anni che nel giro di un giorno è stato prima mascherato poi messo in un sacchetto di plastica con respirazione forzata, rantolava, chiedeva sedativi per il dolore pur essendo sotto morfina. È peggiorato ed è stato inviato in terapia intensiva per essere intubato e al suo posto è stato messo un signore della mia età, di ritorno anche lui dall'intubazione, con il buco aperto sotto al petto per ricevere l'ossigeno direttamente sui polmoni. Io mi raccomando, seguite tutte le indicazioni possibili per non contagiarvi e o contagiare. È stato un inferno una settimana all'ospedale con la paura di seguire il percorso dei miei compagni di stanza. Per mia fortuna ne sono uscito, ma non indenne, perché il Covid mi ha procurato polmonite bilaterale. Io penso sia un bene far sapere cosa procura il Covid, anche perché vedi i medici impotenti non avendo medicinali mirati sono costritti ad usare un po' tutto quello che pensano possa essere utile. li vedevi sfiniti dopo oltre 12 ore di presenza. Su di me usavano del cortisone, antibiotici, antivirali e persino due volte di eparina al giorno, perché sembra che il sangue meno vischioso non permetta al virus di legarsi e spostarsi liberamente. Io ero andato in crisi, perché un giorno ti sembra di stare bene, poi nel giro di poche ore ti blocca il respiro, è veramente sempre pronto a farti peggiorare la situazione. Vi mando un saluto a tutti, ho voglia di rivedervi amici. Ritorniamo in piazza dove naturalmente c'era anche il sindaco Fabri, sono a fianco di chi chiede misure di buonsenso, ha spiegato Alan Fabri, purtroppo quelle previste dall'ultimo DPCM non possono reputarsi tali e non sono quindi ad ora accompagnate da ristoratori che ancora attendono di capire nel dettaglio e con certezza quali saranno e quanto ammonteranno queste misure. Diversi passaggi del sindaco, sentiamo anche il suo parere, essendo naturalmente anche lui il primo rappresentante per quanto riguarda la tutela della salute pubblica. Credo che lo Stato italiano e anche la stessa regione abbia cercato di portare avanti un percorso di analisi su quello che riguarda il monitoraggio del coronavirus. Penso che il presidente Bonaccini da questo punto di vista abbia lavorato insieme alla sua squadra per cercare di rendere la nostra regione tra le più virtuose a livello nazionale. Non capiamo il provvedimento perché non è, ripeto, accompagnato da logiche anche di carattere scientifico. Perché se uno mi riesce a spiegare perché alle 18 posso rimanere aperto, alle 23 no, sinceramente io non ci sto e non riesco a capirlo. Capivo di più paradossalmente ed è, non voglio essere frainteso, la fase del lockdown dove tutti ci siamo impegnati, che non questi provvedimenti così che vanno a colpire soltanto una parte produttiva. Mi è dispiaciuto molto anche sentire da parte del presidente del Consiglio che le attività che sono state chiuse o limitate siano non indispensabili. Anche qui un'arroganza assurda perché definire un'attività non indispensabile è una cosa che sinceramente non capisco, anche perché bar, ristoranti, tutto il sistema culturale, tutto il sistema sportivo anche per i nostri ragazzi, per le nostre famiglie, è veramente assurdo quello che sta capitando e noi siamo qui come sindaci. Ci ho tenuto anche a non mettere la fascia tricolore perché non volevo che venisse strumentalizzato quello che sto facendo ma volevo far capire a tutti che siamo vicini come persone, in primis e ovviamente come amministratori e come rappresentanti delle istituzioni. Insieme a me ci sono tanti altri sindaci della provincia di Ferrara e continueremo questa battaglia silenziosa nei luoghi democratici dei cittadini che ci hanno eletto e lo faremo fino alla fine, anche perché credo che c'è solo una possibilità se vogliamo uscire da questo sistema creare quell'equilibrio tra le forze sociali che è importantissimo e noi vogliamo continuare a farlo. Ora cambiamo argomento, parliamo degli alloggi pubblici perché sono 750 le domande di alloggio popolare pervenute agli uffici aceri in risposta all'ultimo bando di assegnazione elaborato con i nuovi criteri determinati dalla Giunta Fabri a favore di anziani, famiglie, residenti storici. 10% delle richieste è stato compilato online mentre la maggior parte dei richiedenti ha usufruito del servizio di compilazione assistita. Ora gli uffici sono al lavoro per elaborare i dati e dentro 60 giorni la graduatoria provvisoria verrà pubblicata e nei termini di legge previsti verrà dato il via alla sezione degli 80 alloggi. Le domande presentate entro la data del 15 ottobre saranno istruite, il comune avrà 60 giorni come dicevamo per redigere la 32esima graduatoria provvisoria, quelle presentate oltre la data del 16 ottobre 2020 saranno istruite per la 33esima graduatoria. Parliamo di mostre, è partita oggi la prevendita per la mostra Antonio Ligabue, una vita d'artista a Palazzo dei Diamanti, dal 31 ottobre l'avvio della piattaforma web per riservare i posti condigentati è scattata questa mattina alle 9, come fu con la mostra un artista chiamato Banksy, i primi che faranno visita alle opere degli artisti in questi tempi difficili, ha sottolineato l'assessore Marco Guglinelli, regalano a tutto il pubblico e ai futuri visitatori la voglia e la spinta di fare altrettanto, vincendo non di rado alcune remore, ha spiegato Guglinelli, frutto del momento particolare che stiamo vivendo, ha concluso l'assessore alla cultura del comune di Ferrara. Ora chiudiamo per ricordarvi tutti gli appuntamenti, sarà stasera alle 19.55 CNA News, per parlare di Ecipar che lancia un progetto di formazione rivolto alle imprese per acquisire nuove strategie, tra gli obiettivi uscire naturalmente da questa difficile, diciamo difficilissima fase, a seguire l'approfondimento sulle pratiche auto, c'è un nuovo servizio dedicato ai soci di CNA. Poi questa sera in diretta naturalmente su Telestense, alle 20, Basketin, l'appuntamento settimanale dedicato al pallacanestro ferrarese e a tutti i suoi numerosi appassionati, condotto come sempre da Dario Salvadego e da Mauro Cavina e poi Alessandro Sovrani vi dà appuntamento in diretta sempre alle ore 21 con Lunedisport, ospiti in studio e in collegamento, commenti e opinioni sulla partita della spalla che ha battuto il Vicenza, oltre a servizi e rubriche Lunedisport anche in streaming su telestense.it e sulla pagina Facebook di Telestense. Chiudiamo qua davvero il nostro TV giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.